Con Daniele Amerini, collaboratore di Moreno Roggi, parliamo di mercato, sei anche in compagnia di sua figlia, vogliamo fare un saluto con lei? Ciao! Lo fate un saluto? Lo so vuoi dire? Solo un ciao? Sì, ciao! Basta così, va bene, è un po' timida ancora. È un po' timida, insomma, è una bambina brava. Questo è importante. Allora, parliamo di mercato, partirei proprio con i portieri, in particolare da Mattia Perin, che è un giocatore della scuderia di Roggi. Ci sono tante offerte per lui, tanti interessamenti. Si è parlato anche dello Zenit, della Juventus, nelle ultime ore. Qual è la situazione? La situazione è che Mattia sta facendo un campionato molto buono, ha avuto dei picchi di rendimento incredibili, quindi è giusto che per un portiere del 92 ci sia l'attenzione di tutti i migliori club italiani ed Europa. La situazione è che lui comunque in prestita a Pescara, dove credo rimarrà fino a fare un campionato di Serie A che per un ragazzo di 20 anni è molto importante, di proprietà del Genoa, quindi sarà il Genoa che decide insieme ai suoi agenti quello che farà. Credo che il Genoa gli allungherà il contratto, gli rinnoverà il contratto e poi deciderà se tenerlo oppure se darlo a uno delle squadre che probabilmente lo vorranno nel prossimo mercato. Si parla molto dei portieri in questo mercato di gennaio, Sorrentino potrebbe andare al Palermo, c'è stato però qualche rallentamento, come andrà a finire secondo te la vicenda? Io credo che Sorrentino tutti gli anni in procinto di muoversi, ma poi andare via dal Chievo, da un'isola felice è sempre difficile. Il Palermo sta facendo un mercato un po' lento, quindi credo che alla fine andrà in porto, però ci vorrà un po' di tempo perché in questo momento il Palermo forse non è ancora molto deciso nel prendere decisioni, forse ci sono troppe teste che penso. Si discute molto anche di Viviano, accanto all'altro a Firenze potrebbe andare al Bologna? Viviano sta vivendo una situazione particolare qua a Firenze, come era arrivato in Pompamagna purtroppo poi forse si è un po' ritorto contro la pressione di una città come Firenze su un giocatore tifoso della Fiorentina e nato a Firenze. Stiamo parlando però di uno dei migliori portieri italiani che probabilmente qui a Firenze forse ha chiuso veramente il ciclo e la dimostrazione del fatto che mercoledì in Coppa ha giocato Neto, se no era l'occasione secondo me proprio ideale per poterlo rilanciare se c'era veramente l'intenzione di farlo. Non avendolo fatto credo che sia stato stancito definitivamente probabilmente l'addio di Viviano a Firenze, credo che la destinazione di Bologna sia quella ideale visto che stanno cercando un portiere. Se a Bologna non dovesse arrivare Viviano chi vedi favorito tra Bizzarri, Rosati, c'è anche qualche altro portiere secondo te? Io credo che Viviano sia la scelta principale e anche un livello di portiere superiore a quello che hai citato ora, quindi io credo che Bologna sia fortemente su di lui perché gli altri secondo me sarebbero seconde scelte e non andrebbero a migliorare forse il portiere che hanno già. Tu segui molto anche il mercato dei giovani, ce ne sono tanti in Italia in questo momento, quali sono i migliori secondo te a livello di Under 18, Under 19? È un movimento secondo me in grande crescita, ci sono diversi giocatori, ho avuto la fortuna di assistere al triangolare Under 19, Under 20, Under 21 a Coverciano mercoledì, c'era una discreta qualità. Io spendo una parola per Luca Lezzerini che è un portiere secondo me di grande avvenire, già aggregato anche se non stabilmente con la prima squadra, secondo me è un giocatore che può diventare veramente forte. La Fiorentina? La Fiorentina, sì. C'è Giulio Mulas a Siena, un esterno destro basso del 96 che gioca già in primavera, nazionale Under 17, che sta bruciando le tappe, è un giocatore di grande corsa, c'è Veloce a Genoa, un attaccante che sta venendo fuori alla grande, ci sono diversi giocatori, per quello che io posso vedere, seguo molto la Toscana, che stanno uscendo bene fuori, possono fare secondo me a breve i professionisti a buoni livelli. In Serie B invece in questo momento quali sono i giovani più interessanti, quelli che potranno arrivare velocemente in Serie A ed affermarsi? Ma è chiaro che adesso sulla bocca di tutti c'è Saponara dell'Empoli, ha fatto un miglioramento incredibile rispetto all'anno scorso, soprattutto sull'approccio alla partita la domenica, perché in settimana si vedeva era un giocatore di talento, però non riusciva la domenica ad esprimersi. Adesso si sta completando, è un giocatore veramente forte. C'è Giorginio a Verona, un altro giocatore che piace molto. Che mercato ha Giorginio? A Giorginio credo che possa avere un mercato importante, perché è giovane, comunque ha un nome esotico, quindi ha un'attrazione particolare, però comunque è bravo in un ruolo che stanno cercando anche squadre importanti. Quindi credo che possa finire magari in comproprietà, ma è una squadra importante. Poi ci sono i giocatori del Brescia, che sono per tradizione grandi scopritori di talenti. Anche in Serie B è un campionato che si sta rivalutando, perché aveva perso un po' di affilla. Adesso grazie, penso ai giovani, perché tutte le squadre adesso hanno abbassato di molto la media dell'età. Quindi mi vengono in mente, per esempio, Berardi del Sassuolo, Zazza dell'Ascoli, Bellomo del Bari. I giocatori che ormai sono sulla bocca di tutti, che si stanno affermando per un campionato che stanno facendo alla grande. Quindi saranno sicuramente uomini di mercato che approderanno probabilmente in squadre di prima fascia. Siamo arrivati alla conclusione dell'intervista, è tornata tua figlia. Intanto non ti abbiamo chiesto come ti chiami? Ginevra. Vuoi fare un saluto finale? Sì. Ciao a tutti i mercatori. Ha fatto un bel saluto, grazie. Grazie anche a Ginevra e a Daniele Amerini. Ciao a tutti.